Un incendio nella tarda mattinata di ieri è interessato un'azienda che tratta la raccolta e il riciclo di rifiuti a Matinella, frazione del comune di Albanella. Il forte odore e il fumo di colore scuro è stato notato anche a diversi chilometri di distanza. In fiamme alcuni comuni di rifiuti indifferenziati posizionati nel piazzale antistante e l'azienda Ricicla Campania SRL, che si occupa per lo più di stoccare materiale ferroso e un impianto di trattamento e la raccolta e il riciclo di rifiuti. Sul posto anche il primo cittadino di Albanella, Enzo Bagnini, per un sopralluogo. Dalle prime indiscrezioni che il caposquadro dei Vigili del Fuoco ha saputo e potuto fornirmi un incendio derivante da cause non ancora meglio specificate ha investito un cumulo di rifiuti non differenziati, nel quale, come mi veniva spiegato, c'era un po' di tutto, da plastica a residui tessili ad altri materiali sicuramente non classificati, che ha preso fuoco. Fortunatamente non ha investito altre aree di lavorazione dell'impianto, ma resta evidente, così come la colonna di fumo, che adesso è in fase calante, ma prima era veramente di uno spessore impressionante, resta evidente che impianti di questo genere, al di là di quelle che saranno le cause che i diversi organi di indagine metteranno e individueranno, resta evidente che questi incendi, questi danni provocano poi degli effetti sull'area circostante. Fortunatamente non c'è stato interessamento di vite umane, non si contano fortunatamente né vittime né feriti, resta però inteso che questo provoca un chiaro danno ambientale, i cui effetti probabilmente li pagheremo nelle prossime settimane. Io resto in attesa ovviamente delle risultanze dell'ARPAC che è stata prontamente allertata sui possibili residui di questi prodotti combusti, non ci dimentichiamo che siamo in un'area chiaramente agricola con delle colture cerealicole in fase di mettitura, quindi bisognerà studiare eventualmente anche il divieto di utilizzo a scopo zootecnico di questi impianti e cerealicoli, così come bisognerà condurre un'attenta analisi sul possibile inquinamento di falde acquifere dal momento che l'acqua utilizzata dai vigili del fuoco per attutire l'incendio potrà ovviamente infiltrarsi nel terreno e provocare quindi inquinamenti anche delle falde acquifere sotterranee. Restiamo in attesa di questi risultati prima di definire una posizione dell'amministrazione che preannuncio sarà estremamente dura, estremamente decisa anche nei confronti di quegli uffici regionali e di quegli organi di controllo che più volte allertati, sebbene non nello specifico ma anche nelle varie conferenze di servizi tenuti in questi mesi per impianti analoghi da ampliare o addirittura di nuova installazione proprio in quest'area, diciamo che questa è la dimostrazione plastica che è quella che è stata la posizione fin da subito dell'amministrazione, così come confortata dal largo consenso di tutto il Consiglio Comunale e di gran parte della popolazione si erano rivelati timori purtroppo esatti. Quando si mettono queste cose in aree, questi impianti in aree che non riescono a supportarne poi i possibili effetti derivanti da incidenti causati in maniera fortuita, da mille possibili cause, da mille possibili cause, gli effetti purtroppo li paghiamo noi. Troveremo il modo di, qualora ce ne fossero gli estremi, di avviare anche un'operazione risarcitoria laddove ci fossero effettivamente danni quantizzabili anche nei confronti dell'azienda ovviamente e di quei cittadini a difesa di quei cittadini che potrebbero averne subito dei danni. Il timore che accadano eventi di questo tipo, che sono poi irreparabili, aumenta ancora di più la soglia di sensibilità, non solo delle amministrazioni che diciamocela tutta vengono puntualmente escluse da qualunque processo decisorio, dal momento che la legislazione sia nazionale che regionale è una legislazione chiaramente di favore nei confronti di queste imprese. Quindi la sensibilità è sempre molto alta e i sistemi sono sempre molto attenti. Purtroppo però ci troviamo a dover combattere come dei nani di fronte a dei giganti perché la semplice osservanza su carta di determinati regolamenti e di determinate norme sembra poi avere una funzione assolutoria nei confronti di situazioni come queste che ovviamente interessano chi rimane, non quelli che vengono, autorizzano e se ne vanno. Nel pomeriggio di ieri inoltre il primo cittadino Bagnini ha emanato un'ordinanza a salvaguardia della salute pubblica. Quello ovviamente di tenere chiuse ancora, almeno per le prossime 24 ore, le finestre delle proprie abitazioni in modo da impedire alla eventuale presenza di rifiuti tossici distribuiti dal vento e prodotti dal processo di combustione di penetrare nelle case. Valuteremo insieme con l'ufficio tecnico anche la possibilità di vietare l'uso nelle aree immediatamente circostanti il sito dell'incidente delle colture orticole e proveremo in relazione ovviamente in maniera del tutto precauzionale a impedire l'utilizzo anche di rigo delle acque superficiali proprio per evitare eventuali ripercussioni ancora più dannose. Comunque siamo in una fase ancora di valutazione di tutte le ipotesi in relazione anche alle cause e ai danni che poi verranno certificati. Quindi non mi sento di anticipare nulla di preciso se non un'attenzione massima dell'amministrazione e degli uffici comunali a quelli che potrebbero essere le ripercussioni negative di questo disgraziato incidente. Grazie a tutti.